solo dagli spedizioni Erma, viene ai terminalisti, viene dai genti marittimi, viene da tutti gli attori del porto che è quella di, e soprattutto dal Comune di Genova, perché come Comune di Genova siamo interessati a non intasare la città con i tir soprattutto nei varchi portuali, sappiamo che è lungo mare Canipa, molto spesso non ci si riesce a muovere ci si mette un'ora ad arrivare quasi alla sopraelevata per tutta la colonna dei tir che si formano creare dei varchi doganali esterni alla città, non all'interno della città, magari nell'Alta Liguria, nel Basso Piemonte per fare quelle operazioni doganali che dovrebbero essere fatte all'interno dei varchi doganali ma che si fanno prima, in questo modo si riesce a decongestionare il traffico e soprattutto si ha un traffico decongestionato un ambiente più salubre e maggiore sicurezza in città. Sindaco, nella sua giunta c'è anche una delega comunale al Porto e Mare, quanto conta di investire a livello politico e per progettualità, in questo senso, e per il Porto? È una parte della nostra bandiera, se penso alla nostra bandiera, la bandiera di Genova ci sono quattro quadranti bianchi, lo sapete, ecco, pensate che uno di questi quadranti è il Porto quindi è assolutamente importante, volete sapere quali sono gli altri tre? Sì. Certamente il turismo c'è uno, certamente l'altro l'altra tecnologia e l'altro quadrante è la grande qualità di vita che abbiamo noi qui a Genova. Di queste quattro cose, signori, siamo, direi, tra i primi al mondo e dobbiamo continuare a mantenerlo. Maresca, in conclusione, i prossimi progetti della direzione Porto e Mare? I prossimi progetti prevedono, appunto, ovviamente, progetti in corso, diciamo, tavoli tecnici per le ZES, le zone economiche speciali, Waterfront di Pra, importantissimo perché noi vogliamo anche a Pra consentire gli abitanti di poter godere del loro lungomare con minore impatto ambientale del Porto perché bisogna tenere conto anche delle esigenze dei cittadini, questo è fondamentale, accordi per la formazione, quindi più un mare di lavoro, come ho spiegato prima, e soprattutto anche aiutare il sindaco che fa già tantissimi incontri durante l'anno ad avere uno sviluppo economico anche di quella parte città-porto che è fondamentale, quindi attraverso incontri che possono essere fondamentali per il rilancio della nostra portualità e soprattutto magari anche in vista della via della seta che deve, secondo noi, passare da Genova. Era l'ultima puntata di Porto e Trasporto, ringrazio il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ci ha aiutato appunto ad avere una visione d'insieme di tutti i temi trattati, grazie. È stato un piacere, buona serata a tutti. E ringrazio, come sempre, compagno d'avventura in queste puntate, Francesco Maresca, consigliere comunale, con delega Porto e Mare, grazie per essere stato sempre praticamente con noi. Grazie a voi perché avete dato la possibilità, soprattutto alle associazioni di categoria, di fare praticamente degli incontri pubblici, dei tavoli tecnici pubblici per spiegare ai genovesi cosa è il porto, cosa è il porto per i cittadini e soprattutto i mestieri del porto e le varie associazioni di categoria. Quindi io credo che siano stati tavoli tecnici pubblici molto importanti che avvicinano la cittadinanza alla città, al porto. E Porto e Trasporto ritorna, speriamo presto, a parlare di sviluppo e futuro. A prestissimo.